buongiorno amici e benvenuti in un nuovo video io sono Iman e questo è il canale dove parlo di libri in questo video mi piacerebbe raccontarvi i libri che ho letto nel mese di ottobre che sono tanti l'unico problema è che essendo che sono stata un paio di settimane in italia un po di più anzi molti libri di quelli letti li ho letti in italia li ho lasciati lì perché non avevo abbastanza spazio in valigia barra cioè qui c'è abbastanza tutto pieno quindi non aveva senso portarmi libri che avevo già letto quindi alcuni ve li racconto così vi metterò la copertina però non ce li ho fisicamente da farvi vedere e poi invece ne ho altri che sono anche tanti che sono quelli che mi sono proprio letta qui qui a stoccolma e niente partiamo subito con un libro che mi ha veramente sorpreso di cui avevo sentito parlare abbastanza sul bookstagram inglese o americano sto parlando dei terrestri di murata sayaka la stessa autrice della ragazza del convenience store che io avevo letto però non mi aveva fatto impazzire cioè avevo trovato le tematiche interessanti le tematiche sociali questa critica alla società del fatto che non tutti hanno le stesse ambizioni nella vita e non tutti riescono a far parte di questo schema sociale dopo la laurea ci si sposa poi quando ci si sposa se ci si trova un lavoro più dignitoso poi si fa famiglia si fanno figli e poi si muore e questo è lo schema che l'autrice critica nelle sue opere e l'ha fatto nella ragazza del convenience store ma a mio avviso l'ha fatto in maniera ancora più efficace in questo ultimo suo libro i terrestri in terrestri parla appunto di una ragazza che la seguiamo da quando è piccola dovrebbe avere circa 12 anni se non mi sbaglio e lei praticamente è convinta di essere un extraterrestre è convinta che il suo pupazzo l'abbia ingaggiata in una missione sulla terra per sconfiggere i malvagi e quindi assistiamo insomma alle sue peripezie anche se in realtà nonostante nonostante dalla quarta di copertina sembrerebbe un libro super divertente super leggero non è per niente così infatti io mi aspettavo di fare una lettura veramente leggera divertente invece assolutamente no nonostante questa questa bambina sia convinta di essere di avere dei poteri magici e di venire dallo spazio le succedono delle cose veramente brutte ci sono delle scene veramente strazianti e quindi sì ho detto e anche stavolta un libro leggero lo leggiamo la prossima volta ci troviamo in questo in questo lasso di tempo in cui lei ha 12 anni poi la narrazione riprende quando lei ne ha 35 più o meno 34 35 in cui è sposata e lei è tuttora convinta di essere un'aliena e il suo marito fomenta questa cosa e anche suo marito è un po particolare diciamo un po tanto e anche lì succedono cose assurde ci sono liti con i genitori perché non hanno figli lei non ha figli con suo marito ma in realtà è solo un matrimonio tipo di copertura perché nessuno dei due vuole rispettare le norme della società nessuno dei due vuole far parte della fabbrica perché lei appunto definisce il paese dove è nata una fabbrica dove praticamente ci sono dei rettangoli che lei chiama rettangoli in realtà sono case dove i genitori educano i bambini ad essere a loro volta degli ingranaggi della fabbrica e lei proprio si vede che lei inizialmente è molto combattuta di non riuscire a far parte di questa fabbrica però dopo si abitua perché alla fine lei è un'aliena quindi per lei non è così importante far parte della fabbrica il marito invece che pensa di non essere un alieno lui è proprio contro il meccanismo della fabbrica del diventare un ingranaggio della fabbrica insomma succedono delle scene allucinanti è un libro che fa ridere però è anche spaventoso cioè non so descrivere questo libro è un libro fuori di testa però non è fuori di testa fine a se stesso perché ti fa pensare ti fa riflettere su diversi argomenti che a mio avviso sono molto importanti cioè a cui io penso spesso soprattutto in questa parte della vita in cui ho quasi 30 anni e non so cosa fare della mia vita cercherò di essere breve per i prossimi per i prossimi libri anche questo qua ci tenevo particolarmente raccontarvelo un altro libro che ho letto e che ho trovato interessante è la famiglia di pasquale duarte edito utopia di camillo io non so come si pronuncia sela è praticamente cioè io l'ho comprato un po caso perché si chiamava la famiglia di pasquale duarte quindi detto vabbè una saga familiare top mi piace invece no non è una saga familiare di quelle tipo che uno pensa è la storia di questo pasquale duarte che è un contadino poverissimo figlio di un contadino alcolizzato insomma ha una vita veramente brutta fino a quando è piccolo gli succedono cose brutte assiste a ingiustizie assiste a violenze e lui a sua volta quando diventa più grande compirà dei delitti dei crimini anche gravi perché lui nella sua testa vuole fare giustizia e vuole ribellarsi come a una specie di destino già scritto e infatti praticamente gli succede di tutto di più però il lettore ovvero io non riesco a vederlo cattivo nonostante lui abbia fatto delle cose gravissime abbia ucciso delle persone in maniera veramente brutale è difficile anche vederlo come carnefice e lo scrittore gioca proprio su questa ambivalenza che nonostante lui compia degli atti crudeli noi sappiamo tutto quello che gli è capitato e quindi lo vedi sia vittima sia carnefice però non c'è molto un romanzo che gioca sul concetto di giusto e sbagliato mi è piaciuto nel senso mi sono strappate i capelli però un libro veramente bello una lettura che secondo me va fatta anche perché è un classico della lettura spagnola del novecento di cui io non so assolutamente niente e quindi sono contenta di aver fatto questa lettura e tanto è un libro molto breve avrà 150 pagine così quindi si legge poi un altro libro che ho letto che ho sempre lasciato in italia di cui vi metto la copertina è la più piccola di fatima das edito da fandango che mi ha gentilmente inviato la copia io ho chiesto di ricevere questo libro perché mi interessava moltissimo la tematica sull'omosessualità intrecciata alla religione infatti fatima das è una ragazza musulmana credente che però è omosessuale e questa cosa la porta a una crisi interiore importante perché lei sa che alla non non permette questa cosa e quindi lei essendo credente cerca di reprimere questa cosa e cerca di parlarne cerca di parlarne con qualcuno però non vuole dire che è lei quindi dice sempre è una mia amica si sente così però in realtà da quello che emerge sembra che tutti sappiano che l'amica sarebbe fatima e quindi mi interessava la prosa è molto particolare perché ogni capitolo è tutto è un libro libricino molto piccolo strutturato in brevi capitoli ogni capitolo inizia con mi chiamo fatima oppure mi chiamo fatima das l'ho trovato interessante però secondo me la prosa in francese secondo me suonava un pochino meglio cioè non mi ha proprio convinto questa scelta come è stata tradotta dall'italiano però come valore di testimonianza secondo me ci sta quindi ve lo consiglio se anche mi interessa la tematica di genere intrecciata a una tematica di tipo religioso e capire come è possibile o se è possibile combinare le due cose io penso sia interessante poi altro libro che ho letto in italia è o da marti o morire di francesca guercio edito polidoro editore io l'avevo trovato su libraccio ed era appena uscito al tempo quindi io senza neanche sapere qualcosa della trama io l'ho preso perché polidoro una casa editrice che mi ispira molto ho letto mandibula di monica okeda e mi è piaciuto veramente tanto e quindi come ho visto questo libro ho detto beh me lo prendo però non mi ha proprio fatto impazzire devo dire non mi ha convinto non mi è piaciuto lo stile di scrittura troppo autoreferenziale probabilmente era un effetto voluto vista la storia perché la storia racconta proprio di un classico amore impossibile tra una donna e un uomo sposato con figli che non ha alcuna intenzione di lasciare moglie e figlio per mettersi con con questa donna quindi sono solamente amanti inizialmente si parla proprio dell'annullamento di questa donna per per questo uomo e del loro rapporto che inizialmente era molto occasionale dopo però questa donna infatti il libro è tutto scritto dal punto di vista della donna ha iniziato proprio ad annullarsi per per lui e questo l'ha portata a diventare un fantasma un fantasma che segue lui e lui però non sa che lei è lì con lui e a volte tipo gli fa fare delle azioni o magari non lo so rompe qualcosa qualche oggetto o fa qualcosa per cui lui cioè lui non si ne è conto perché lei è invisibile e quindi questo l'ho trovato abbastanza interessante però boh cioè mi ha un po annoiato perché si ripeteva spesso e non mi ha proprio convinto più di tanto però interessante l'idea adesso passiamo ai libri che ho qua in svezia e sono un bel po vabbè di menzogna e sortileggio non serve parlarne perché ne ho fatto un video comunque bellissimo stupendo e ve lo consiglio capolavoro poi ho letto anzi ho ascoltato su audible l'anno della lepre di arto pasilina io avevo letto piccoli suicidi tra amici ancora anni fa e mi ricordo che mi era piaciuto molto questo qua molto molto bello molto vabbè tipico dell'ironia finlandese diciamo e racconta di vatanen che è un giornalista che trova una lepre in un bosco poi decide di mollare tutto e ricomincia tipo da capo abbandona la moglie di cui non era più innamorato e nemmeno lei abbandona la sua vita in città il suo lavoro e tipo vive con questa lepre inizialmente la lepre ferita quindi la cura e dopo partono in una missione è stra divertente perché alcune cose sono un po strane però ci sta c'è ti fa un po venire voglia di dire basta mollo tutto è possibile ricominciare ed è anche divertente il modo in cui scrive è un libretto veramente carino godibile poi io l'ho ascoltato dicevo letto da giulio scarpati e per me è subito un medico in famiglia tipo io da piccola guardo sempre un medico in famiglia quindi mi è piaciuto un sacco ascoltarlo con la sua voce ve lo consiglio l'ho letto l'ho anzi l'ho ascoltato veramente con piacere poi ho letto pancia d'asino di andrea abreu ne avevo già parlato mi pare in un video in cui dicevo che la lingua non mi convinceva anche perché come vi ho detto è proprio scritto in uno spagnolo che è tipo una varietà di spagnolo delle isole canarie e in quel quartiere specifico parlano in uno slang particolare e quindi è stato difficile renderlo in italiano a me tipo all'inizio non aveva convinto per niente perché le parole sono scritte sbagliate in inglese non mi aveva convinto però poi andando avanti nella storia ho capito che l'autrice cioè l'autrice o la traduttrice non so chi incolpare cioè con questo linguaggio ha voluto creare un mondo in cui ci sono queste due ragazze che sono le due protagoniste una storia molto molto bella mi è piaciuto il modo di narrare dell'autrice questa descrizione di questo quartiere di queste persone molto macabra diciamo e mi ha ricordato molto anna maria ortese quando descrive napoli nel mare non bagna napoli descrizioni molto belle non lo so il finale mi ha lasciato un pochino così mi aspettavo qualcosina in più però dai una bella lettura poi molto piccolo quindi ci sta secondo me però secondo me se sapete lo spagnolo leggetelo in spagnolo perché secondo me l'italiano così non cioè io ho iniziato ad apprezzarlo ma secondo me perché io sono andata al salone del libro e sono andata all'evento in cui c'era la scrittrice la traduttrice hanno spiegato proprio le difficoltà di traduzione di questa di questa lingua che è molto particolare quindi secondo me dategli una possibilità però magari in spagnolo poi ho letto mille anni che sto qui anzi anche questo l'ho ascoltato su su audible di mariolina venezia è una saga familiare ambientata in basilicata molto molto bella mi è piaciuto tantissimo vedere proprio il cambio generazionale di queste donne perché sono soprattutto donne l'unica roba che avrei voluto è che avrei voluto che fosse più lunga perché ci sono tanti personaggi quindi o avrei tolto un po di personaggi ma da concentrarsi magari su quelli principali o sennò l'avrei fatta più lunga perché a me piace sinceramente proprio godermi il viaggio di di queste di questi personaggi passare da generazione però questo libro non è tanto grande quindi secondo me forse forse ecco a mio gusto personale avrei allungato di qualche centinaio di pagine giusto perché a me piace proprio immergermi e vabbè però comunque molto bello scritto molto bene secondo me veramente riuscito come sono cambiati i tempi tra le varie generazioni anche la il modo di parlare c'è riuscita veramente esprimere molto bene questa cosa poi a me i romanzi familiari piacciono tanto e sono contenta di averlo ascoltato poi anche la la voce quella di anna bonaiuto che è la stessa che ha letto l'amica geniale quindi ci sta cioè io ve lo consiglio poi altro libro letto l'anomalia di hervelle tellier candidato al premio strega europeo questo qui l'ho preso al salone sono andata a sentire l'evento questo libro io l'avevo già d'occhiato perché mi interessava particolarmente ne avevo sentito parlare molto bene devo dire che è proprio magnetico ti cattura perché vuoi sapere come va a finire quindi secondo me è proprio un romanzo perfetto da leggere per esempio d'estate tranquilli in vacanza sotto l'ombrellone quando hai tutto il tempo per dedicarti e non è che lo devi chiudere perché cose da fare tipo lo vedo così inizialmente nei primi capitoli ti racconta i vari personaggi che tu non capisci tanto da che cosa sono accomunati leggi storie di persone dicevo ok quindi e poi arriva il quindi praticamente a marzo a terra un volo aereo dopo una turbolenza e alla fine però tutto tutto finisce bene a terra questo aereo però giugno a terra lo stesso identico aereo con lo stesso personale di bordo gli stessi passeggeri però è come se loro fossero rimasti a marzo quindi ci sono praticamente dei doppioni delle persone che sono doppie e un aereo che si è praticamente clonato però rimasto indietro nel tempo di qualche mese molto interessante molto intrigante e poi non vi voglio svelare di più perché forse vi ho già detto troppo poi c'è scritto è c'è scritto nella quarta di copertina non è che vi ho fatto spoiler però secondo me meno ne sapete e più ve lo godete questo questo romanzo poi ho letto anche una graphic novel in svedese che però è uscita anche in italiano per fandango e mi pare si chiama in la rosa più rossa si schiude di liv stromquist e mi è piaciuto molto perché è sì ma grafic novel però in realtà cita moltissimi saggisti critici nel senso secondo me è una graphic novel che sconfina nel saggio e racconta più che altro della visione dell'amore nella nostra società cosa comporta per esempio le dating up e come è cambiata nel tempo la nostra visione dell'amore nel bene e nel male è super super interessante l'ho letto l'ho letto veramente con molto piacere poi mi piace molto dentro mi piace quando tipo le graphic novel sono scritte che sembrano scritte tipo con la penna non quando sono scritte tipo al computer con il fondo tutto uguale non so se avete capito cosa intendo però l'ho trovato carino anche questa è una lettura piacevole però secondo me ti prende più tempo di una graphic novel normale anche perché è molto scritta cioè è come fosse per questo dico che secondo me sconfina nel saggio perché la illustra disegnando le parole dei filosofi o degli scrittori degli autori che lei stessa cita poi l'ultimo libro che anche quello che mi è piaciuto di più insieme a menzogna e sortileggio è il corpo elettrico di jennifer guerra che mi ha inviato la casa editrice tlon io di jennifer guerra ho letto anche il capitale amoroso e mi è piaciuto tantissimo proprio un libro che mi ha veramente aperto un mondo e anche questo non è stato da meno mi è piaciuto veramente tanto il corpo elettrico parla inizialmente nell'autocoscienza del corpo della donna e poi affronta diversi argomenti per esempio le donne in politica il concetto di personale che è anche politico e su questo tema io avevo letto anche ripartire dal desiderio è un tema che mi interessa molto parla dell'inclusione delle donne transgender non binary nel nel concetto appunto di donna e che dire mi è piaciuto veramente tanto perché lei ha un modo di scrivere che proprio a parte che ha molto immediato non sono tipo dei saggi in cui non ci si capisce niente io l'ho trovato veramente immediato e l'ho letto veramente in una giornata però è molto piccolino io ve lo consiglio se volete anche approcciarvi al mondo del saggio se vi interessano le tematiche del femminismo io vi consiglio di prenderlo in mano e leggerlo perché è un testo secondo me che non potete perdervi basta questi erano i titoli che ho letto questo mese fatemi sapere voi cosa avete letto se c'è qualche cosa tra questi libri che avete letto anche voi e vi ricordo che potete seguirmi su instagram che sono anche attiva giornalmente diciamo e potete vedere tutte le recensioni che faccio e i vari libri che che leggo vi metto qua sotto i link affiliati ad amazon e se comprate qualche libro di quelli che vi ho consigliato io ricevo una piccola commissione sul vostro acquisto vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video ciao